E niente ragazzi, niente, 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 allora l'ASL di Napoli non è intervenuta, ma è intervenuta l'ASL di Alkmaar, l'ASL di Alkmaar è intervenuta e anche questa partita il Napoli ha perso, stavolta non 3-0 a tavolino ma 1-0 a tavolino, e niente, no 1-0 sul campo stavolta grazie all'ASL di Alkmaar, comunque fantastico, fantastico perché loro piangono, loro piangono, loro piangono, ci sono poi squadre che scendono senza 10 positivi e vanno a battere il Real Madrid a Madrid, ci sono squadre che rispettano sempre i protocolli, l'ASL di Napoli non è intervenuta, a parte gli scherzi perché comunque l'ASL, l'ASL, la Zeta Alkmaar ha rispettato i protocolli e non potevano intervenire, sono intervenuti con il Napoli perché il Napoli non ha rispettato il protocollo, poi il precedente di Parma, che il Parma è stato bloccato dall'ASL, il Parma ha chiamato la Lega, la Lega poi ha chiamato l'ASL e si sono messe d'accordo, hanno fatto partire il Parma per l'Udine, è un precedente che secondo me peserà molto anche per quanto riguarda il ricorso del Napoli, il Napoli poteva fare la stessa cosa ma non l'ha fatta perché sapeva di essere intorto e che sarebbe andato sempre, ripeto questa cosa qui, incontro a sanzioni ben più pesanti a livello penale e sportivo, comunque stai fatto che, niente, l'ASL di Napoli stavolta non è intervenuta, è intervenuta l'ASL, ASL, A-Z-L, di Alkmaar e il Napoli ha perso 1-0, al di là di questo parlando un attimo di calcio, Koulibaly è un giocatore che secondo me è sempre stato sopravvalutato e avrebbero fatto un affare cedendolo anche solo per 55-60 milioni perché più di quei soldi non li vale, non vale, Koulibaly assolutamente, avrebbero fatto un affare, avrebbero preso un difensore da 30 milioni più magari un altro centrocampista, e avrebbero fatto sicuramente ottimi affari con la cessione di Koulibaly, e poi Ozyman, avesse sbagliato, qui il gol che ha sbagliato Ozymane, Milik, chissà che avrebbero detto i napoletani a Milik, invece siccome è Ozymane, a sbagliarli va bene tutto, comunque al di là di questo, niente, niente, queste ASL hanno rotto il cazzo ai napoletani, gli unici hanno rispettato i protocolli in Europa e poi si lamentano, possibilmente, non è calcio, dicono non è calcio, non è calcio se l'UEFA ci minaccia che loro arrivano qui e hanno avuto positivi, però era calcio quando avete battuto, è stato calcio quando avete battuto appunto il Genoa 6-0, che poi è uscito che avevano tanti positivi, era calcio, è stato calcio quando avete battuto 4-1 l'Atalanta, scolate con i giocatori dell'Atalanta che tornavano dagli nazionali, non è una scusa, però è un dato di fatto, mentre i napoletani e i giocatori di Napoli si sono riposati, proprio per la questione dell'isolamento fiduciario, perché non l'hanno fatto da soli, non l'hanno fatto quella famosa bolla, lì è stato assolutamente calcio, è stato calcio, stavolta no, voi siete scesi contro la Zeta Alkmar, che aveva giocatori, mancavano giocatori che sono appunto risultati positivi al Covid, contro la Zeta Alkmar e avete perso 1-0, martedì interisti, napoletani erano lì a guffarci a Kiev e poi come sempre, come sempre, quando ci guffate prima, lo prendete nel culo, poi ripeto, queste ASL che intervengono quando non dovrebbero intervenire, ragazzi miei, ragazzi miei, vi auguro buonasera a tutti, sempre comunque fino alla fine Forza di Eventus e sempre comunque fino alla fine Forza ASL, ciao a tutti, forza le ASL in generale, le ASL, ciao a tutti.